eccomi qui per l'ultima lettura che ho fatto più precisamente stoner di john williams questa è un'edizione fazzi al costo di 15 euro allora questo è un libro che su youtube si è già visto e rivisto e spero tu non sia annoiata o annoiato dal sentirne parlare anche da me io non vedevo l'ora di leggerlo ma allo stesso tempo mi spaventava perché tutti ne hanno sempre parlato come di un di una storia banale tra virgolette nel senso che è molto semplice molto lineare però è una storia che ti cattura io non so perché sono stata rapita da queste poche cose forse perché a volte ho veramente bisogno di cose semplici da leggere anche se devo dire che secondo me non è proprio così allora ti leggo a caldo quello che ho scritto ci sono persone che non possono fare quello che vogliono perché nel momento in cui lo fanno qualcosa va storto e tutto torna ad essere come deve stoner è un uomo che merita molto ma che riceve troppo poco allora sostanzialmente quello che dicono tutti è vero cioè stoner è la storia semplicissima di quest'uomo che cerca la sua strada ma nel momento in cui sembra trovarla la vita sembra quasi voltargli le spalle e rimetterlo in riga quindi è un uomo che fondamentalmente è molto pacato pacifico non ha grandi pretese perché davvero ogni volta che alza la stecchetta delle sue aspettative dei suoi desideri gli arriva una bastonata ed è quello che mi è piaciuto tantissimo di questo libro io non sono riuscita a staccarmene perché è una lettura fantastica cioè veramente io non pensavo allora ti leggo brevemente la sinossi allora william stoner ha una vita che sembra essere assai piatta ed isolata non si allontana mai per più di 50 chilometri da pontville il piccolo paese rurale in cui è nato mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita per quasi 40 anni è infelicemente sposato la stessa donna io sua moglie veramente cioè più leggevo e più volevo a parte che secondo me era una psicopatica secondo me a lei una camicia di forza non avrebbe dato fastidio anzi però ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo allora c'è una spiegazione a tutto ovviamente perché da qua effettivamente sembra un po uno stronzo anche oltre che un poverino però c'è una spiegazione a tutto la figlia a un certo punto mi mi ha preoccupato ho detto oddio sta venendo su come la madre ti prego no in realtà secondo me è una figlia che è talmente simile al padre che però si rende conto immediatamente di quello in cui potrebbe incappare e reagisce boh te la dico così perché non voglio neanche farti troppi spoiler i genitori vabbè sono genitori all'antica quindi genitori che hanno già deciso la strada che deve intraprendere il figlio di conseguenza si aspettano che il figlio faccia questo e io mi ci sono molto rivista in in stoner perché io veramente in 40 anni di esistenza ho sempre fatto la cosa giusta non la cosa giusta per me ma la cosa giusta punto quindi anche quello che non mi rendeva pienamente felice ma era giusto fare io l'ho sempre fatto e tuttora lo sto facendo mi sto un po ribellando appunto con il mio canale youtube questo è un progetto che io porto avanti ormai da due anni mi pare un due anni e mezzo non ricordo neanche più e lo sto intensificando da un anno a questa parte l'anno prossimo vorrei dare ancora di più è un progetto che mio marito non approva molto perché dice che sono troppo concentrata su questo però un progetto che mi rende felice e di conseguenza per una volta nella vita voglio portarlo avanti quindi e stoner un po così poro cristo anche lui quindi mi ci sono veramente trovata per sua ammissione ha soltanto due amici uno dei quali morto in gioventù non sembra materia troppo promettente per un romanzo e tuttavia in qualche modo quasi miracoloso john williams fa della vita di william stoner una storia appassionante profonda e straziante cioè è veramente così cavolo così come lo leggo è così tu se ti fermi a leggere veramente queste poche righe dici ma che cacchio è che me lo fa fare di leggere di sto sfigato perché fondamentalmente è uno sfigato ma ti assicuro che arrivi in fondo e sai che questo libro ti ha dato un sacco cioè quindi se non l'hai letto devi leggerlo non non c'è un periodo dell'anno in cui andrebbe meglio o peggio è un libro che secondo me va letto basta non c'è io non voglio dirti altro perché lo devi assolutamente comprare mettere in nel carrello amazon dove cavolo vuoi ma datti la possibilità di una lettura che secondo me è fantastica super consigliato super promosso un bacione al prossimo video ciao